Le prime novità della stagione pallavolistica in ambidue femminile arrivano dalla pallavolo Cerignola. Dopo il brillante quarto posto nella stagione passata e culminata con il ritorno in questa serie, il primo tassello riguarda colui che l'ha fatta tornare, Michele Valentino, e infatti lui il nuovo responsabile del settore giovanile delle Uxia. Si riparte da qui, che aveva ripreso a marciare il settore giovanile dopo gli anni pandemici, a partire dalla stagione 22-23. Adesso il difficile compito di dare il giusto input a questo settore, che da sempre rappresenta la cucina per far uscire giovani talenti, ragazzi e ragazze, che vorranno cimentarsi in questo mondo. Valentino, che è tra i fondatori della società ovantina, lo sa bene, e come sempre la sua organizzazione di lavoro sarà all'altezza del compito assegnatogli. Nei prossimi giorni, o forse nelle prossime ore, si sarà anche il nuovo tecnico per la stagione in B2-23-24 della Balla Buono Cerignola.